Un'area di 16.000 metri quadrati, oltre mille cucine all'anno prodotte. Uno spazio espositivo di 2400 metri quadrati, oltre 80 cucine esposte. CS Cucine, con sede in località Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, si presenta offrendo ai visitatori un viaggio dove poter toccare, vedere e non solo. L'evento qui nello stabilimento di Fosso Imperatore era la presenza anche di tre chef che hanno preparato le specialità del territorio utilizzando tre tipologie di cucina, la classica, la moderna e la contemporanea. Cucine, con sede in località Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, a Nocera Inferiore, a Nocera Inferiore. Cucine, con sede in località Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, a Nocera Inferiore. CS è leader nella produzione di cucine componibili, vende il proprio prodotto direttamente al cliente con la possibilità così di abbattere i costi di mediazione commerciale. Spazio alle proprie esigenze ma anche alla propria fantasia con la possibilità di veder realizzata la cucina dei propri sogni. CS cucina e tiene conto delle diverse esigenze del cliente. sia tecniche che estetiche si riesce a dare libero spazio alle idee dell'acquirente anche grazie al supporto tecnico dei consulenti alla vendita. ed eccoci nell'ampia area produzione e qui che vengono realizzate le cucine CS. E chi lo desidera può conoscere in ogni momento lo status della propria cucina, monitorare le fasi di produzione e su prenotazione visionare la realizzazione della propria cucina. CS vi aspetta Fosso Imperatore a Nocera Inferiore scoprirete la possibilità di mettere insieme convenienza con un prezzo da fabbrica e qualità grazie ad un'esperienza di oltre 50 anni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!